Ciao, fino adesso ti hanno detto che se vuoi vendere su Amazon devi per forza importare i prodotti dalla Cina su siti come Alibaba o Aliexpress. Quello che nessuno ti dice è che il metodo più semplice e veloce per guadagnare su Amazon è la vendita dei prodotti brand. La nostra società nel 2014 è stata l'unica in Italia premiata da Amazon per i risultati ottenuti. Abbiamo sempre e solo esclusivamente venduto prodotti brand. Per questo oggi ti presentiamo Shoppalo, la prima piattaforma in Italia che oltre a formarti a vendere prodotti su Amazon dall'Ala a Z ti fornisce i prodotti vincenti. Fare private label nel 2019, ovvero creare il proprio marchio su Amazon, è una tecnica molto complessa. Sia perché la maggior parte dei venditori su Amazon sono fornitori cinesi e sia perché bisogna saper padroneggiare complesse tecniche di indicizzazione prodotte non solo. Ecco perché abbiamo creato Shoppalo, per permettere a chiunque di vendere sin da subito su Amazon. Grazie a una formazione completa, il nostro software Shoppalo sarei in grado sin da subito di vendere su Amazon. È l'unica piattaforma in Italia in grado di farti iniziare questo fantastico business in pochissimi minuti. Il 25 maggio spiegheremo dall'A alla Z come siamo riusciti ad ottenere questo prestigiosissimo premio vendendo brand su Amazon. Se non hai mai venduto su Amazon o vuoi impiare quel business su questa fantastica piattaforma, contattaci per partecipare all'unico evento in Italia che oltre a formarti a vendere brand su Amazon dall'A alla Z, ti fornirà i prodotti vincenti per il tuo account. Ciao!